bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda la nuova season di fortnite oramai non si parla d'altro lo sappiamo non ci sono più patch all'orizzonte in questa stagione ma il 27 agosto quindi tra una manciata di giorni arriverà la season 4 e io non vedo veramente l'ora di vederla insieme a voi le cose si fanno molto più chiare oggi voglio schiarirvi un po le idee parleremo di questo parleremo anche della cap free fortnite e parleremo di quello che ha detto microsoft in relazione al macello che sta succedendo prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che non può che essere il nuovo teaser pubblicato ieri nel pomeriggio da fortnite dalla pagina di epic games his warning is dire will they hear loro devono ascoltare l'avvertimento che gli è stato dato lo faranno più o meno questa è la traduzione in italiano di questa scritta part due in fortnite game now part due ovviamente si intende il proseguio della storia nel fumetto che c'è nella lobby la vogliamo vedere insieme dai che la vediamo insieme poi ne parliamo un attimino ragazzi come vedete ieri ci siamo fermati dove c'era tor che entrava dentro quello che sembrava essere un rift ed infatti oggi continua dicendo lui aveva detto devo andare a e allora lui dice avvertirli e infatti entra nel rift l'isola in prossimità del punto il re del tuono può sentirlo mentre sorvola questa terra strana e vivace ed infatti si vede ragazzi la nostra mappa di questa season qualcosa lo attira se cercando disperatamente di irritirlo di avere la meglio sul potere cosmico e su quello di odin che credo sia odino che scorrono nelle sue vene divine infatti lui è molto combattuto con quello che sta per succedere né lui nei suoi corvi hagin e moon in conoscono il significato di quella magia ma cercano delle risposte in questo strano luogo hanno trovato dell'altro e infatti si vede come un bombarolo lucente sta godendosi la vita con il miascolo vita salute a te straniera non intendo farti del male gli dice lui io sono thor re di asgard vengo in pace dimmi ti prego che luogo è questo dove mi trovo lei si trova un pochettino spaventata come è giusto che sia ed infatti cerca di scappare lui gli risponde no ripeto non è mia intenzione farti del male sono appena arrivato non ho nulla contro di te e il tuo e intanto si sente un rumore tipo da dietro popolo dice lui e c'è il miascolo che sulla sua motoretta cerca di investirlo vi prego sono venuto ad avvertirvi sono dalla vostra parte non c'è bisogno di combattere e vi assicuro che sarà meglio per voi non mettervi contro dice lui impugnando il martello che comincia a fare dei fulmini arghe intanto subisce bam un colpo cattivissimo da jonsi che di fianco al raven ha un'aria molto soddisfatta sig e sia dunque ripete sempre lui mentre guarda la links e la banana con in mano uno scar perché john si hai fatto questo perché hai sparato a thor questo ragazzi è il vero anello di congiunzione che collega le due season quella che abbiamo adesso è quella che sta per arrivare il rift in cielo è stato proprio il punto di passaggio di thor john si ha scatenato molto probabilmente la guerra tra i due mondi non aveva assolutamente senso che lo facesse l'ha fatto e per questo ragazzi come vi dicevo ieri la mappa è in pericolo tra l'altro arrivano anche delle nuove immagini sui teaser che arriveranno come vedete la lettera e e che informa un attimino quello che è appena successo quindi thor con sotto comunque jonsi e il raven la x ragazzi un altro teaser dove si vede benissimo come thor colpisca jonsi visto che è stato in poche parole come dire gli è stata dichiarato guerra quello che sappiamo ragazzi è che fino adesso le parole che sono state scoperte formano la lettera nexe ora io non so bene se ce ne saranno altre molto probabilmente sì e quale parola vogliano comporre se qualcuno ovviamente ha un'idea lo scrivo qua sotto nei commenti perché io i commenti li leggo ragazzi e come me li leggono migliaia di altre persone magari riusciamo a trovare qualche informazione arriva comunque anche direttamente ai creator una mail che ci è arrivata qualche giorno fa dove ci sono delle delle piccole cose interessanti che servono principalmente per abbellire le miniature dei propri video ma quello che ci interessa è che sappiamo che in questa season 4 che sta per arrivare la guerra dei due mondi è veramente il tema principale e probabilmente se ne vedranno davvero delle belle come vedete ragazzi alle mie spalle c'è già una nuova immagine ed è un'immagine che conoscete meglio di me ieri si è giocata la free fortnite cup l'ultima chance di poter ottenere 1200 hardware regalati direttamente da ep games per far fronte ai gravi problemi che sono sopraggiunti ovviamente da ep games a apple come sapete ragazzi dal 27 agosto non sarà più possibile giocare a fortnite su un dispositivo ios per fortuna questo non toccherà i mac quindi solamente i dispositivi ios vi ricordo ragazzi che facendo 10 punti nella free fortnite cup si otteneva la skin don torsolone molti non lo hanno ancora non l'hanno ancora ricevuta anzi credo nessuno l'abbia ancora ricevuta dovete pazientare perché è arrivato un messaggio direttamente che dice entro le prossime tre settimane tutti riceveranno la skin quindi non abbiate paura se li avete fatti e non l'avete ricevuta arriverà ovviamente anche a voi il vostro premio e andiamo ragazzi a chiudere il video news di oggi anzi prima voglio farvi vedere un piccolo leaks che è stato scoperto ieri sembrerebbe che nelle nei file di gioco siano presenti due nuove stringhe la prima dice technology alone won't save us e la seconda dice herald alone won't save us la tecnologia da sola non ci salverà e l'araldo da solo non ci salverà ovviamente parliamo sempre di leaks dedicati all'evento che non sappiamo se ci sarà oppure no o se si andrà direttamente alla season perché non ci sono timer in game non ci sono timer dentro i file di gioco e non sappiamo se ci sarà qualcosa di diverso dal trailer ovviamente staremo giustamente a vedere vi stavo dicendo ragazzi che questa è l'ultima cosa di cui vi volevo parlare perché nelle ultime ore di ieri nella serata microsoft ha pubblicato ufficialmente un comunicato stampa che vi leggo direttamente tradotto che dice oggi abbiamo presentato una dichiarazione a sostegno della richiesta di epic di mantenere l'accesso ad apple sdk per il suo unreal engine garantire che epica abbia accesso alla più recente tecnologia apple è la cosa giusta per gli sviluppatori di gamer e i giocatori e poi ovviamente c'è tutto il link che va a rimandare alle tantissime pagine che microsoft ha voluto inviare in modo che potesse dire la sua questa ragazzi è una situazione che continua a confermare come il ramo di apple che non c'entra niente ovviamente con microsoft continui con la sua ideologia loro hanno detto avete violato i termini di servizio tra l'altro vi ricordo che già a giugno in realtà team sweeney il ceo di epi games aveva inviato una lettera ad apple dicendo noi entro pochi mesi cambieremo il sistema di pagamento dei nostri giocatori per l'acquisto dei v bucks ed apple aveva risposto dicendo attenzione se voi cambiate il modo di pagamento noi saremo costretti a prendere provvedimenti qui comunque si nota come forte come epic games abbia voluto comunque proseguire verso la sua linea ideologista e quindi nonostante apple gli avesse detto guarda che ci saranno dei problemi loro hanno voluto continuare è una battaglia che avrà fine chissà tra quanto ragazzi ma molte sono le società dalla parte di epic vi ricordo netflix spotify facebook e adesso anche microsoft quindi staremo ovviamente vedere ovviamente vedere insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi il video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao